buongiorno e buon weekend questa volta quartetto di film mi rilascio sempre al tema di Conan e mi dispiace che purtroppo il video sia uscito nel giorno in cui obiettivamente eravate tutti in ansia per un altro quindi se volete recuperatelo adesso ho visto qualcuno l'ha tra l'altro visto proprio in questi giorni mi rilascio quello per quattro film un buon film un film scadente e due zozzeria magari sull'ultima qualcuno borbotterà ma per me è una zozzeria allora il primo il primo film è il seguito ideale anche se è una storia stand alone di Conan il distruttore non c'è più John Milius alla regia c'è Richard Fletcher doveva essere il secondo film di una trilogia che doveva concludersi con Conan il conquistatore purtroppo il film era progettato per il 1987 Conan il distruttore e Svarsi stava finendo il suo contratto stava girando Predator tra l'altro in quel periodo e diciamo così il suo cash era troppo alto per De Laurentiis e si è si è droppato tutto anche con una conseguenza abbastanza negativa perché purtroppo parte della sceneggiatura fu fu recuperata per girare quella immensa schifezza che fu cool il distruttore cool il conquistatore mamma mia una roba che non si poteva vedere serviva un personaggio con una cattiveia disumana e ci ha messo Kevin Sorbo io penso a quello penso io non sinceramente io capisco magari la vecchia i vecchi ricordi di Hercules e Xena che per me erano tre già allora perché sembra mi ha sminchiato tutta la mitologia greca ben peggio di quanto ha fatto poi Kratos e con God of War e mamma mia se uno vuole vedere citare bene la Lawless guardi Battestra Galactica serie di cui devo anche parlare dicevo Conan il distruttore è un buon film più di questo però non riesco ad andare in termini di valutazione perché è uscito Conan prima Conan il barbaro quello è un capolavoro secondo me del fantasy qui non ci arrivano non perché non abbiano delle idee tra l'altro la sceneggiatura è stata curata da due fumettisti non c'è più Oliver Stone non ci sono più Cessy Quinjabro e Eileen Carter però secondo me il vero il vero problema è che è uscito quello e che se vogliamo alcuni alcune scelte non sono state secondo me ben azzeccate comunque i fumettisti in questione sono Roy Thomas e Jerry Conway per farvelo sapere non sono state azzeccate Schwarzenegger è ancora in parte Oddio ogni tanto sorride ma sapete quando sorride Svarsi ti si gela il sangue perché c'ha quel mezzo ghigno non c'è più Lopez come spalla gli mettono un ladro che si chiama Malak e va anche bene diventa lui il comic relief ecco però è un po troppo comic relief nel senso che ci sono un po troppe battute di là le pochissime battute ma veramente si contano quel contagocce e sono molto contestualizzate le faceva a Kiro qui questo personaggio qui fa un po il comico un po troppo a volte torna a Kiro ecco e anche lui ha qualche battuta anche qua ci sono forse un po troppi elementi di alleggerimento dal punto di vista dell'avventura poi c'è Grace Jones nella parte della guerriera Zula ora Grace Jones bellissima donna bravissima cantante bravissima modella però secondo me non era la sua parte o a parte diciamo così il fisico estremamente lungilineo mi va benissimo il fatto che combatta col bastone un'arma estremamente difficile ma porca miseria qui a metà del film caccia urla casaccio e per l'altra metà salta di qui salta di là come un grillo poi c'è la scena assurda là del sorcio cioè una guerriera tostissima durissima vede il sorcio zumpa via mamma mia che schifo il sorcio dai un po di credibilità ma diciamo così anche lei in qualche modo se la cava non è un disastro il disastro vero sono gli altri due secondo me cioè Wild Chamberlain che è stato preso perché è alto quando mi ho detto si prende uno o perché ha potenza fisica come svarzi o perché è gonfio come Momoa di cui parleremo tra poco ecco lì hanno preso uno perché grosso Wild Chamberlain ha la capacità recitativa di un cipresso ma proprio grandissimo campione di basket su quello non lo discuto grandissimo campione di basket ma porca miseria ha sempre la stessa faccia cioè devi recitare in un film sei un guerriero sei tra l'altro un fetentone sostanzialmente perché sei l'aiuto della della villain della della sacerdotessa e che cacchio ma sempre la stessa faccia ma sempre e tra l'altro io io immagino la fatica dell'esperto di armi perché porca miseria io giuro non ho mai visto uno dategli un'altra arma non lo so io capisco il pallone da basket ha un peso una mazza da guerra così ne ha una una mazza da guerra che ho data ne ha un'altra ma porca miseria ma sembra uno che stia zappando la terra cioè nel combattimento con 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 conan verso la fine del film ma era smarzenegger che secondo me faceva fatica a evitare di tirare una tronca una tronca e segarlo perché mamma mia giù una bella zappata e poi stava lì a cinque minuti cercare di tirare su sto tronco di depino ma secondo voi è logico non l'ha messo lì perché era grosso si vede che non è capace lo si vede e si vede che poi non non sa recitare cioè non ha espressività non ha emotività non trasmette niente se l'idea era di fare il guerriero custode tutto quanto inespressivo e così ma anche lì cioè perché l'espressione che ha non è quella del dell'uomo imperturbabile o tutto no c'è l'espressione del frescone che non aiuta molto e poi c'è la principessa mamma mia ora chi conosce i videogiochi e ha giocato a resident evil 4 sto per citare un nome che gli farà venire alla pelle alta dita ashley ora ashley in resident evil 4 era considerato la figlia del presidente ashley graham mamma mia gli avresti voluto sparare tre secondi dopo averla incontrata nel gioco appena la vedi e la senti parlare con quella voce terribile ti vorrei rifiondarla via e considerato che tutte le volte che in un casino lei parte o leon 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 mamma mia giuro in resident evil 4 l'elenco di quelli io non vorrei far fuori l'illuminados vorrei far fuori lei è lunghissimo ecco nel remake bellissimo tra le mie di resident evil 4 bellissimo l'hanno un po smorzata diciamo che mentre nella versione originale la vorresti accopare dopo tre secondi nella versione remake la vorresti accopare dopo dieci secondi rimane sempre il fatto che la vorresti seppellire perché è insopportabile ecco siamo lì questa questa trice si rende antipatica quanto nella sua parte sembra una canna puzza sotto il naso che non finisce più mamma mia e dati una sgasata se lì un truccio l'alto un metro e un barattolo fai tanto la grossa con armadia due a due anti intorno cioè ti hanno pregiunte si stanno anche prendendo per i fondelli prendeva piano una pietra da un mago poi con quella pietra deve andare a corno e poi quando hai preso il corno la tua zietta che ti vuole tanto bene che ti diciamo così ti apriamo una bocca un po più in basso del normale e dai è insopportabile a un certo punto se dovevi scegliere tra lei la sacerdotessa ma mi è più simpatica la villa in ecco di questa qui però il film funziona in questo senso è divertente intrattiene ci sono belle scene di combattimento un po smussate ma per richiesta della stessa produzione perché il primo conno era finito con rating r e con queste qui non volevano rischiare la stessa cosa perché più il rating è stretto meno si incassa e quindi quella no l'hanno smussata un po poi ci sono effettivamente bei combattimenti questo sì diciamo che il marzellismo di smarzenegger e di altri c'è è quello di chamberlain che è assente ingiustificato ma per altri personaggi c'è ad esempio una cosa intelligente la tratta finalmente un momento non so che hanno fumettari quindi magari si erano anche letti dungeon and dragons per dire e finalmente vedo un lato che usa i pugnali con un po di logica cioè non che pensi di avere in mano una spada che io ne ho visti troppi di gente che impugna il pugnale come scusate la calcofonia impugna il pugnale come se fosse una spada che non ci fai un cazzo ma detto il film è un buono e si vede benissimo quindi se volete recuperato perché è divertente ma la storia è una storia molto molto fantasy ma molto canonica in quel senso il party che si raggruppa intorno all'eroe il viaggio di ricerca quindi niente di particolarmente complicato o zigogolato purtroppo il primo conan invece aveva una storia profonda una storia cupa comunque non solo la crescita e la maturazione di conan ma tutto quello che c'è dietro c'erano anche dei riferimenti all'attualità cioè proprio il rapporto con le sette millenariste del periodo e quindi la cosa era un po diversa qui si sta più nell'avventuroso ma proprio la sceneggiatura che sta curata due fumettari fumettari del periodo quindi la componente avventuistica e diciamo anche fumettistica si vede dal dallo scontro col mago dentro la stanza degli specchi al combattimento contro dagot che è fatto anche bene la gli effetti speciali da curati rambaldi e si vede che c'è la mano di uno che se ne intende però manca quella pezza quella profondità del primo forse quello il vero limite poi sì ovvio gli effetti speciali sono invecchiati si vede insomma sono certe plasticosità si notano ma non su non dovrebbe ragionare che dovrebbe messare al periodo siamo l'84 quella era lo stato dell'arte più o meno perché in effetti l'ho detto un po di plasticosità si vedeva anche allora se uno ci pensa un attimo fa mente locale certe cose se ci davano della gommosità del polistirolo così ma le ci passavi su ve l'ho detto il combattimento tra conan e dagot è fatto bene il combattimento contro contro mumbata vabbè ringraziate ringraziate sversenegrandi perché veramente non c'è me non si può vedere cioè se fosse stato uno scontro vero finiva dopo quattro secondi il tempo che mumbata alzava la lascia la mazza la mollava per terra e poi stava lì un po a vedere se non so usciva da sola e intanto le altre lo affettavano come una come una salsiccia perché è imbarazzante però ve l'ho detto è un film che si si è godibile assolutamente godibile e se volete non c'è su youtube ve lo dico cioè c'è in noleggio ma ci sono gli spezzoni se recuperatelo in dvd che è meglio magari poi passiamo al film scadente e il film scadente è sempre con la ragia di flash esce due anni dopo rispetto a a conan il distruttore e qui c'è il problema ve l'ho detto si voleva costruire una trilogia c'erano già delle idee in corso a una cosa ancora riguante il conan il distruttore la sceneggiatura finale è stata modificata da scusatemi anche io mi devo recuperare da stanley man non è piaciuta né a conway né all'altro collega che ne hanno fatto uscire una graphic novel che noi abbiamo un po più cupa un po più cupo un po più dura un po più violenta com'è nello spirito del conan di hour modificando tutti i nomi per motivi di copyright e quella veramente è notevole fatta veramente bene comunque nel loro caso è il cono di azot non di dagot proprio motivi di copyright esce iado due anni dopo ora partiamo da una cosa non si sa perché cazzo ho sentito iado ve lo dico subito non chiedetemelo non si capisce perché non c'è nessun iado nel film ma manco a cercarlo con la lente di ingrandimento poi effettivamente le 85 l'anno dopo il film è centrato su un altro personaggio di haward red sonia ma più che sul personaggio di haward sulla sua reedizione fumettistica della marvel quando la marvel era la marvel ecco ora toglietevi anche quella dalla testa non siamo ancora ai livelli della versione della dynamite cioè la diavolessa con la spada che è una bestia ferocissima al confronto cool sembra una un monaco trappista però diciamo l'armatura è un po particolare perché lei sostanzialmente indossa un bikini in cotta di maglia e in diversi disegni da frank choa così quando la cotta di maglia parte sotto non c'è ecco vabbè ci siamo capiti però è un personaggio estremamente violento cioè ho citato frank choa perché a parte che un grandissimo illustratore ha anche un gran senso dell'umorismo ha fatto alcune tavole divertentissime in cui una c'è un tizio che per sfiga la urta mentre sta bevendo lei una birra alta un metro e già si c'è già dalla fatta come la disegna l'espressione che ha nel disegno dice questo qui è già finito di vivere perché il personaggio era così personaggio molto molto bello e tra l'altro io lo sto sto caricaturando per quanto sia forte e decisa ma è costruita bene ha una sua profondità tra l'altro c'è una serie proprio basata sullo sviluppo di questo personaggio che ti mostra effettivamente quello che è nel suo intimo quelli suoi le sue perplessità i suoi dubbi anche il modo in cui riflette sulla sua eccessiva violenza però qui torniamo un attimo una versione più fumettistica anni 80 ma ribadisco parliamo di un personaggio forte determinato aggressivo violento impavido ora nel film c'è smart nagel che fa la parte di calidor se mi chiedete che cazzo ci facesse lì cioè lui era sotto contratto non è il protagonista anche se te lo mettono in andina perché metterci la britney britney a quel tempo si bella bella finchè poi ma chi cazzo è ha il sottocontratto sandan berman che sarebbe la ha fatto valeria con i capelli lunghi sta benissimo al fisico e la l'espressività la forza visiva per fare rezzonia no lei non va bene prendiamo brigitte nissen modella danese se non ricordo male non mi ricordo c'è il paese d'origine che è espressiva come un blocco di tuffo ora devi rappresentare un personaggio che subisce cose terribili da giovane che evolve diventando una guerriera straordinaria metti un'attrice che non sa fare un'espressione manco per sbaglio ha sempre la stessa faccia sia che sia incazzata sia che sia contenta sia che sia contenta sia che sia uno stato di puzza fiatismo che ci sono anche quelle scene lì imbarzanti qualsiasi cosa ha sempre la stessa faccia porca miseria ma metteteci una che abbia un po di espressività no un pilastro del tuffo va bene altri non ho capito poi la storia l'hanno scelta per tratti androgeni brignissimi tratti androgeni li avete visti solo voi comunque ma scegliete una che abbia espressività deve deve rappresentare una guerriera indomita e violenta con una forza interiore spinta dalla vendetta dalla rabbia non ci puoi mettere una che sembra renato pozzetto in sonno fotogenico invece quello e tra l'altro qui c'è l'altro problema questo film ora ci metti swartzenegger ovvio perché se no non ci veniva nessuno a vederlo chi cazzo sapeva chi era redsonia ecco non è che in italia a quel tempo comprassero tutti i fumetti che erano della marvel per dire che quando ma stesso discorso voleva per la dc la dc per vendere john carter la sua versione di john carter lo metteva come allegato di tarzan quindi è la stessa cosa la marvel lo metteva come allegato da qualche altra parte anche se poi magari il fumetto in cui era allegato faceva schifo mentre quello buono era il giorno il giorno john carter ma non è quello per dire che la tra gli sceleggiatori della serie di john carter c'era chris claremont e chi non conosce claremont è meglio che vada a nascondersi parlo il mondo fumettistico è cioè datemi un personaggio con spessore anche swartzenegger è un patatone lì lor calido si a parte i suoi i sorridi quando sorridi mi fa venire gli incubi ma sì va bene fa il grosso fa la spalla ma perché è lì perché c'è nel film c'è perché se no non ci veniva nessuno a vedere a parte quello ma il suo personaggio in che modo si contestualizza con con la vendetta di sonia verso chi gli ha maciullato la famiglia verso verso la regina gedren che è interpretata la sandalberman tra l'altro non non si sa ma il problema poi è lo stesso il comic relief allora qui il comic relief è un principino di un regno distrutto dalla regina gedren e il suo aiutante falcon allora a parte che l'aiutante diciamo spero alla mobilità fisica di un di un paracarro se quelle la guardia del corpo del principe erano messi male cioè mettevi come un fustino del dixan aveva più sicurezza in combattimento il principe di un odiosità è uno stronzetto infinito c'è la scena in cui lui fa finta di voler combattere mamma mia c'è roba che fortunatamente la spada era finta sennò quel bambino non cresceva perché finiva si autoaffettava fa una roba che dopo aver detto che lui comunque aveva cominciato a studiare le arti della spada e fa una roba che mamma mia per far vedere che lui è bravo con rezzogna cerca di tirare un calcio tenendo la spada all'indietro cioè io già ci vedo uno normale che ti tira un calcio portando la spada all'indietro e poi si stupisce perché non ha più una gamba è perché quello cioè antipatico come pochi un povero deficiente cioè la scena in cui vede duellare che calidor e rezzogna che stanno sostanzialmente facendo un esercizio e salta addosso a svarznegger per aiutare sonia mi ha fatto lo stesso effetto di non lo so di un chihuahua che per aiutare il suo amico carlino va a caricare a testa bassa un alano cioè l'effetto è quello è cioè gli si attacca il collo cioè svarzi lo prende con una mano e ti dice beh non scrollarlo troppo se no si rompe antipatico come pochi un puzza sotto il naso che da competizione e del comic relief gli vorresti tirare una roncola in fronte e poi siamo quando dico il problema di questi film è che ci deve essere un maestro d'angolo ma qui c'era qui c'era ma evidentemente era lì in vacanza premio perché si è dimenticato come fare svarznegger qualcosa se lo ricordo ancora si vede si vede il problema è rezzonia questa dovrebbe essere un'ira di dio con la spada mamma mia se la dea che la benedice con la benedizione per cui sarà diventerà una grandissima spadaccina una che non potrà mai essere sconfitta infatti non si dovrà per lì è una questione del personaggio non c'entra niente tra l'altro manco nel discorso di awad soltanto chi la sconfiggerà in duello potrà diciamo così fare vabbè immaginatevi un po e non comincino qua sotto le nazi ferma a scassare le balle è un fantasy non l'ho inventata io sta cosa è nel fantasy mica l'ho detta io che deve essere così porca miseria idea ma insegnero bene le arti le arti delle spada perché se quello lì se quella è la tua idea di maestria della spada sei messa male ma giusto a tagliare la salsiccia va bene come maneggia la spada cioè lo sconto che c'è appunto tra lei in cui interviene poi l'ognometto perché mamma non spacca balli cioè io mamma mia io non sono un esperto mio fratello ha detto ma ma questa qui ma veramente sa che cos'è una spada no no per saperlo perché ho visto di quei buchi nella guardia che metà basta ma c'è una scena veramente che c'è da piegarsi in due in cui ora svarzi si gira e lei tenta l'affondo tirando sulla spada per colpirla alle spalle della serie ti sto telefonando il colpo cioè svarzi la blocca semplicemente con la spada se in quel momento lei non è che il colpo è ripiega no sta lì se lui avesse mosso il braccio all'indietro gli affrettava le gambe cioè diciamo che si vede chiaramente che non è a suo che i brignissen non è a suo agio qui magari l'ha anche spiegato bene il maestro d'armi però non è il suo e lo si vede anche lì nel duello finale con getteran ragazzi io ribadisco mi ricordo la berna quanto era brava con la spada nel primo corno e qui sembra che si è dimenticata tutto cioè il duello in sostanza è tirarsi delle grandi spadate lama contro lama cioè rezzogna colpisce la berna non para praticamente gli colpisce la spada e lei sposta il braccio per la forza che ci mette rezzogna ma che quello un duello a spade quello lo fai con il bastone di legno quando hai sei anni cioè possibile e si sposta di qua e si sposta di là e do cazzo è sto duello di spade cioè poi questo va bene tutto ma non mi sembrava che avessi in mano il martello di thor no c'è una spada che va beh al suo peso ma non stiamo parlando di uno spadone da cavalleria possibile che ogni volta che quella devi al braccio tu ci metti mezza giornata rimettati in posizione tra l'altro io sono uno che dal punto di vista estetico ha sempre amato le spade nella loro purezza se uno pensa alle spade di signore degli anelli come anduril narsi il gland ring guardate le eleganze dell'arma pochi fronzoli sì ci sono decorazioni ma sono decorazioni contestualizzate spesso sulla lama l'essa non è eccessiva non è ridondante mamma mia la spada di rezzogna c'è un essa che peserà due volte la lama poi troppa plasticosità c'è alcuni fondali ma marramente si vede lontano un chilometro che sembrano baracconate col polistirolo cercate di mascherarle un po cioè quando crolla il castello porca miseria il pavimento che si rompe sembrava che ci fosse sotto qualcuno col bastone la regina greda anche precipita nella la non se capisce un castello costruito sulla lava chi è il genio vabbè ma precipita nella lava vabbè se vede che appiccicata no ma usate un altro trucco fatela cadere giù senza far vedere che precipita nella lava cioè si vede anche troppo è l'effetto ve lo sto dicendo perché comunque il film è rimasterizzato poco poco tempo fa in 4k e quindi questi difetti si vedono ancora di più perché la purezza aumenta e la plasticosità la polistirosità di certe cose risalta ancora di più e non è un bel vedere ve l'ho detto poi un conto è va bene il ricordo e l'istruttore i due negati non sono attori principali qui la negata è proprio la protagonista lo si vede che non è capace lo si vede che non è a suo agio insomma il brighett nessel le espressioni che si vedono lì sono le stesse che ha in rock i4 che è tutto dire cioè non ha il o in cobra quello non è un film quello è una è un'arma di tortura scegliete veramente ce l'avevate sotto mano una brava usate usate sanda merma ho cercato un'attrice che abbia fisicità e che diciamo così dia l'immagine di una donna forte cioè qui l'immagine la donna forte non c'è non basta mettergli in mano una spada e gli spallacci e tra l'altro ve l'ho detto la berma con i capelli lunghi stava bene qua se vede perché gli hanno incollato la coda è invecchiato malissimo questo film infatti è andato anche male quando è uscito non è che non è andato bene perché poi c'è il trucchetto di mettere svarz neger lì col che fa vedere il bicipite lo spadone poi vai lì e vedi che non è manco il protagonista ma c'è in poche scene se non sbaglio ha girato solo per tre settimane lui rispetto a tutto il resto del film la gente gli girano un po i coglioni e poi non si capisce il titolo che cazzo significa iado cosa c'entra iado perché quel titolo anche il duello con la regina che è un finale ma ma mamma mia c'è questa che scompare e si sento i rumoretti da film degli anni 70 ma come fai a reggiala sta roba aveva toller il comic relief sempre in mezzo alle balle sto bambino che è utile come un piede sulla schiena e quindi il film è stato è brutto è scadente invecchiato male però per carità se uno se lo vuole guardare per togliersi anche la curiosità non è un film inguardabile quello discorso i film guardabili sono quelli che vivono adesso quelli si sono veramente inguardabili è un film scadente molto scadente e si poteva fare molto molto meglio semplicemente pensando o la berma benissimo lei fa rezzonia per una che facesse la parte della regina con i giramenti la trovavano senza fatica e vedevi che facevi già un film migliore proprio perché se la protagonista deve essere una donna guerriera impavile incazzosa tutto quanto ci devi mettere un'attrice che trasmette quello se ci metti un blocco di tuffo con l'espressività da un papavero e non vai da nessuna parte e ora però cominciamo con le vere disgrazie conan il barbaro del 2011 porca miseria che merda e sono anche gentile in questo film una cosa ci salva romperman perché romperman è uno che per così dire è bravo è un è un grandissimo ottore spesso sottovalutato ricordatevelo comunque quando fa la parte del frate dolciniano nel nome della rosa per dire tanto quella parte che doveva è stata proposta franco franchi c'è un personaggio talmente oltre talmente strano che qui fa la fa la parte del padre di conan ora già all'inizio con antista sul cazzo già da bambino mentre provavi empatia per il conan del film di svarsnägen quando parla con il padre il padre gli spiega il segreto dell'acciaio e tutto qui abbiamo un buzzurro montato gasato pieno di sé fin da piccolo ti sta già sui maroni subito lasciamo perdere il parto della madre in battaglia che potevano anche risparmiarcelo la storia è un patacone vabbè la maschera da ricomporre perché il signore della guerra calar zim e mi nonna e mi zia due cojoni che non finiscono più il problema principale in questi film devi avere un protagonista che ti da che ti carica ora l'unica cosa che è voluto fare a jason momo è caricarlo co blindato a parte le battute cioè questo faceva battute del cazzo per tutto il film ma che cazzo ti ha detto che conan fosse un comico cioè la cosa più comica che faceva conan era decidere se il tuo compagno che ti stai portando dietro lo accoppavi de notte oppure lo mollavi in mezzo a qualche mostro e poi te ne andavi non è un personaggio con il senso del comico non parlo del senso dell'ironia del senso del comico perché questo fa battute sceme questo fa battute sceme a parte che un malato di patata che metà basta se passano a qualsiasi cosa compresa un gruppo compreso un gruppo di vacca al pascolo gli va dietro mammi minchia ma che hanno preso un degenerato della principessa lì della della sacerdotessa che dovrebbe essere sacrificata non gliene frega un cazzo a nessuno dopo 30 secondi appena la conosci dici ma questa chi è ma la volete sacrificare vediamo una mano noi il cattivo te fa un dancoma il cattivo te fa un dancoma cioè troppo stereotipato troppo esagerato gli effetti speciali sì e allora cioè ragazzi gli effetti speciali messi per mascherare la pochezza di tutto il resto rimangono effetti speciali messi per mascherare la pochezza di tutto il resto cioè il duello coi turbini di sabbia tra conan e lì ermago da discount il tirano da discount ma dico ma dai masco coi turbini di sabbia ma se mica unire di dio con le due spade lasciamo perdere il fatto di combattere con due spade che è una barzelletta che non finisce più a guardare quelle due spade pesavano 15 chili l'una o questo aveva il fisico di franco columbu o praticamente le faceva strisciare e non c'aveva il fisico di franco columbu c'aveva il fisico di uno che impacchetta le buste al mcdonald per favore dai nella versione inglese tra l'altro la voce del narratore di quella è di morgan freeman tanto per mettere un'altra cosa che va bene tanto per dirla ecco devi portare un personaggio che crei empatia per cui crei un legame emotivo e ti porti uno che sta sui coglioni dopo un secondo già da quando era bambino e io vorrei sapere la millennium films ma gli ha letti i racconti di howard o glieli hanno riferiti perché la loro idea era fare un film fedelissimo ai racconti di howard mi fanno vedere in quale parte dei racconti di howard conan diventa un totale coglione perché che sia violento ok ma stupido no non lo dico io lo dicono critici e studiosi della letteratura di howard conan non è stupido è scaltro astuto ed è anche intelligente non si butta a cazzo di cane nel combattimento tanto vada come vada io mi arrangio non fa così questo minchione qui c'è davanti 100 guerrieri ci si butta dentro perché ma sì io so conan non sei john carter minchione che aveva una forza da più o meno approssimativamente di 50 uomini sei un bestione grosso e anche qui ve l'ho detto servivano attori che avesse potenza fisica da trasmettere cioè che trasmettesse l'idea di una di una forza contenuta e pronta ad esplodere jason momen dall'idea di uno che l'unica cosa che gli poteva esplodere era l'intestino se l'ha mangiato male per favore ma teneteci lì lontani sti qui marco nispel è lo stesso che ha fatto il quella cosa lì il remake reboot di di non aprite quella porta che l'unica roba decente il padre quello che fa la parte del padre della famiglia interpretato da dal nostro amatissimo gergente armand anche qui persona che tra un altro poi se uno la vede intervistata e questo è stato un vero marina è un vero soldato una delle persone più gentili tranquille così però ricordatevelo come ha fatto artman e poi capite cosa significa passare entrare nella parte o entrare in quello che lui in realtà che lui conosceva ecco mamma mia cioè in quel film lì era una cosa che si salvava secondo me e nispel anche qui la butta in cacciara come sotto la qualità è quella è la buttiamoli duello finale una buffonata ma si poi qui anche qui hanno cercato i registi più o meno la cazzo di cane perché se hai un'idea di far per fare un film e dovresti cercare un regista che corrisponda a quell'idea ora qui si era passati prima di nispel a chiedola rodriguez ma me l'immaginate rodriguez a fare un film così dopo un po mi aspettavo che entrasse un cazzo di mariace a suonare la chitarra e dentro la chitarra ci fosse una 44 eh ma che cazzo c'entra rodriguez che tanto più o meno fa sempre lo stesso film ecco quindi brad ratner scartato anche quello perché era impegnato allora sono arrivati a marco e nispel e tenete conto che doveva intitolarsi conan 3d che secondo me ha portato una sfiga che metà basta è brutto è brutto noioso cioè ragazzi dura tantissimo dura tantissimo non che dura più del conan di milius ma il conan di milius poteva durare anche cinque ore e non te ne accorgevi per quanto la storia ti avvince ti interessa non ci sono punti morti qui punti morti comincia con sto stronzo che si porta in bocca non mi ricordava l'ovo ma chi se ne fa ma chi se ne chiava con con i guerrieri secondo loro quelli erano i guerrieri piti ma ribadisco ma l'hanno letto award o no a quelli sembravano moicani mica guerrieri piti mi mancava solo che arrivassero con le moto rombando facendo i gasati arrivasse dietro un tizio alto circa 1 98 che ti guarda male gli esplodono sempre i vestiti e cominciasse a fare e poi vedevi che esplodevano ecco mi dava quell'idea lì ecco spero che nessuno abbia l'idea di far fare a jason momoa kenshiro perché c'è anche il problema dell'altezza diciamo così ma parte tutte e delle ciglia e al kenshiro le ciglia nell'anime sono abbastanza importante nell'anime originale non nelle versioni rifatte dopo che io vi straconsiglio sono un po più fedeli al manga gli hanno un po ridotto l'altezza delle ciglia nell'anime originale anche per il numero di disegnatori che cambiavano perché una volta era disegnato in un modo l'altro in un altro vabbè c'è delle ciglia importanti il film è stato triturato triturato perché allora ha incassato tanto nella prima settimana la critica l'ho massacrato subito ha incassato tanto nella settimana però in totale ha incassato 48 milioni e quello di smarci ne ha incassato i 68 e se uno va a guardare va a guardare ragazzi quello la critica lo ha omaggiato e tanto anche il pubblico l'ho omaggiato e tanto questo tra critica e pubblico partivano i pomodori ma perché poi ci metti sto strabicone di momoa già quando lo vedo fare acqua allora nella justice league se c'è un personaggio che non c'entra in cazzo con acqua ma è proprio jason momoa non c'entra in cazzo nel gruppo no allora se uno guarda la justice league nella versione di widow non la versione di snyder cioè dove c'è la scena in cui sono sulla sulla era per andare ad attaccare la fortezza di step and wall e lui si siede sulla corda di esti a me gli scappa la verità che vorrebbe trombarsi wonder woman io me la immagino la principessa diana sto buzzurro qui sto troglodita se si viene l'aereo di lano tu sei manovra tu sei il re delle acque sì ma qui siamo in cielo e ve lo vedevi partire come un proiettile con calcio in culo perché quello che si era demeritato cioè ci metti sto buzzurro perché veramente è un buzzurro è un coatone mancava veramente c'è la catenona così intorno al collo con il crocifissione da otto chili e poi c'è tutto ma toglieteceli questi figli ma non se dovete fare un remei fatelo bene o non fatelo tanto al pubblico fate solo del bene perché poi se no li rincoglionite magari vanno a vedere i film della disney che girano adesso magari apprezzano anche il re leone in live action con i leoni che c'è solo un mentecatto fa un film il re leone in live action e pretende che i leoni abbiano delle espressioni certo hanno molto più espressioni i leoni di re leone dei pesci granchi e altri abitanti dei mari della sirenetta ma probabilmente lì è anche una scelta degli stessi degli stessi produttori perché visto che l'attrice tranne quando canta canzoni che mamma mia sembrano quelle dell'asilo ha l'espressività identica a quella dei granchi e delle altri pesciolini allora non sono nota la differenza per quanto è scarsa recitare e adesso arriviamo al quarto il quarto lo so qualcuno mi dirà no ma non è un brutto film è un film insomma c'è Sean Connery e chi cazzo se ne frega come se non avesse preso delle imbarcate anche lui vi ricordo la leggenda degli uomini straordinari cioè secondo me Alan Moore secondo me dopo che l'ha visto voleva cappottarsi dal balcone e c'è Richard Gere un attore mediocre e basta cioè bello finché volete ma non ditemi che un grande è un attore mediocre che a volte ha fatto delle bravi delle ottime parti tipo in Brooklyn Finest lì è recitato veramente bene ma in altri contesti o nel film con Catrassi in cui fa il poliziotto l'ercio in altri contesti è stata una scarpa però qui non è colpa di Connery né di Richard Gere il primo cavaliere fin del 1995 e il problema è il nome del regista che è Jerry Zucker che a me fa venire in mente Zucker Abraham Zucker mi dite cosa c'entra sta roba con Re Artù ma mi dite quando cazzo avete visto delle armature così in quel tempo che sembrano tirate fuori da Star Trek per quanto fanno cagare tra l'altro ma mi dite quanti anni secondo me deve avere Artù rispetto a Ginevra no perché nel film pare che Re Artù è il nonno e Ginevra è la nipotina eh cioè solo che Artù non diceva Cribio ogni tre per due eh cioè l'idea che ti viene è quella eh ma intanto copiamo una coppia famosa eh in quel periodo con che cazzo stava poi non me lo ricordo ne cambiava una settimana eh prendiamo quello lì che dice sempre Cribio e poi gli affidiamo una che ha più o meno l'età eh per andare a scuola ma secondo voi è quella lì la logica? dove sono i dodici cavaliere della tavola rotonda? ti fanno due coglioni così con l'ancillotto eh due balle che non finiscono più lasciamo perdere Mordred Mordred quello lì sarebbe Mordred eh? la parte di Ginevra la fa Giulia Armonde tanto per dire quello lì sarebbe il cattivo Mordred tra l'altro manco si chiama Mordred dove l'avete preso in discarica? no per saperlo eh? eh no perché Sir Malagant chi cazzo è? ma dico ma ve la ricordate? l'epica l'epica che si vede in Excalibur ma non solo in Excalibur vi cito un altro film che non c'entra niente con Artù ma che riguarda la storia di Robin Hood e Merriam avanti negli anni in cui c'è ancora Sean Connery quello era un bel film con un'epica e una poesia qui stai toccando qualcosa di critico ma anche il film in cui viene descritta la vita di Merlino e nella parte di Merlino c'è Sam Neill era un film per la tv ma era fatto anche bene porca miseria chi cazzo è sto Malagant? dov'è Mordred? dov'è Morgana? dov'è l'epica? quel castello lì sembra quello di Gardaland porca miseria hai un grande attore come Sean Connery e gli fai fare la parte di un Rear 2 pronto per l'ospizio che manca solo che vada in giro col deambulatore e la padella dietro perché sennò se la fa addosso ma dov'avete visto quelle armature lì? ma veramente? ma si può pensare che quelle sono armature? ma lo sanno gli effetti che fa una spadata sul corpo umano? non è che se ti metti la maglietta di cotone è un'armatura porca miseria si ha avuto successo questo non lo discuto ma io voglio vedere qualcosa di epico che rientra nell'epica qui stiamo parlando dell'epica della letteratura qualcosa di bellissimo come la morte di Artù la leggenda di Artù la bellezza di quei tempi portata adesso nella modernità mi va benissimo volevate creare un Artù un po' più realistico magari? avete ciccato completamente? volevate creare un Artù più fantastico? altra cagata che avete fatto? perché non è realistico e non è fantastico è duballe così dove è Excalibur? dove è il tradimento di Lancillotto verso il suo re e quindi la rottura del patto tra me e la terra dove sono? c'è un cazzo no c'è la fine la fine deve finire con la storia d'amore tra Lancillotto e Staginevra perché? perché è l'oggi perché così perché al regista piaceva così ma se al regista piaceva buttarsi direttamente nel cono di un vulcano attivo ma che ci andasse? ma non ci faceva il film mamma mia ma veramente o stiamo parlando di un'era precedente al medioevo e questi c'è ma giuro io pensavo che da un certo punto di vista cominciassero a tirare fuori le spade laser o i fulminatori di Star Trek che qualcuno aprisse improvvisamente il comunicatore e dicesse Enterprise tirami i sussi col gancio quello mi dava l'idea ma secondo voi l'armatura è uno spallaccio? prima qualcuno faccia obiezioni perché anche John Carter e l'armatura è uno spallaccio per i Barsumiani l'armatura pesante è da codardi quindi l'armatura è limitatissima soltanto in quegli stronzi della Disney che non hanno letto l'opera di Barogs ti mettono alla lorica a Tardos Morse e Morskayak e a Cantoscan perché per un Barsumiano vero lo spallaccio serve semplicemente come arma per colpire l'avversario spingendolo l'armatura non dovresti averla perché sennò sei un codardo e quella è gente che su quello era De Legno mi vedo sti qui col vestitini tutti blu tutti tirati, tutti eleganti cazzo sembrava di vedere l'undersuite di Judge Dredd come colori erano quelli non sapete quella boiata fatta da stallone se volete vedere un buon film su Judge Dredd guardatevi quello con Karl Urban in cui Karl Urban non toglie mai il casco ed è un figlio di buona donna che metà basta ma che c'è una storia dietro è fatto bene non si esagera e non si sbaracca tutto ti dà l'idea veramente di una megalopoli in cui si vive nello schifo quello è un bel film e infatti se lo sono cagati poco invece la boiatona con Svarsnag che è eeeh mi hai riuscito tutti col mascellone porrompente il casco che fa lo stronzo andando in una zona in cui sparano e la protezione in Kevlar che è lo spallaccio e il pettorale che ti arriva sopra il cuore quindi il cuore è scoperto secondo loro qua era la protezione in Kevlar dicevo e qui siamo a sti livelli ma per piacere ma quello lì non è Artu e quello non è Lancillotto e quello non è Ginevra quello non è Camelot quello non è Mordor non c'è Morgana non c'è niente di quell'epica questa è una boiatona è una boiatona un drammone sentimentale che va bene alle 5 di pomeriggio su roba come Canale 5 Rete 4 o anche sulle Rai perché ormai siamo lì ma non è non c'entra niente con l'epica di Artu potevano tranquillamente inventarsi un'altra storia senza metterci quei nomi si mettevano il nome di un rebacucco lo trovavano tanto la logica è quella ve l'ho detto Artu è un senile ce l'hanno anche adesso mi sembra in America un senile che farai vabbè ah no è il presidente ci mettevano un senile il figone riferito a Cerghiera è la bella donna è quella lì è quella storia è quella lì il cattivone con la faccia un po' da puzza sotto il naso è tutto lì non c'è una storia che ti trasporta certo quel film ha avuto successo ha avuto successo perché c'era la ricerchiera ha avuto successo perché la maggior parte di chi l'ha visto manco sa cosa cazzo è Artu e per favore non pensate ad Artu fatto dopo mamma mia quella roba mi sembra di Guy Ritchie che se lo becco lo legno io di persona ma questa è una cagata è una cagata pazzesca e se vogliamo l'ho messo per un che fa più cagare di Conan di Nis per un motivo quella lì è una schifezza ignobile ma qui hai dei grandi attori che recitano male pure qui hai preso una storia bellissima e l'hai buttata la minchia per che cosa? per farlo diventare un polpettone sentimentale perché questo è questo film è un polpettone sentimentale giusto per l'oraio delle casalinghe o dei casalinghi che stanno passando ad aspirapolvere e così se guardano a quella magari tirano su con il naso perché lì si commuovono questa è la realtà di questo film boh ragazzi 50 minuti vi ho scassato la Waller a livelli biblici ma non abbiamo ancora finito perché ci saranno altri film e c'è un racconto di cui devo parlare ma il prossimo film che vedrete domani quello è un grande film e anche il racconto di cui vi parlerò domani quello è un grandissimo racconto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti